numero 3, Giorgio, numero 4, Martina, numero 7, Simani, numero 8, Claudio, numero 11, numero 11, Giorgio, numero 15, Andrea, numero 8, Andrea, Giorgio, numero 22, Arturo, Giorgio, numero 32, Alessandro, A disposizione, hai maiήσo 30 stranari, 15 det e 17 demoni, 18 demoni, 16 demoni, e' a chi fa' no in questo, le fanno il proprietario, Joestri, Giorgio, Soltà Sketche, Grazie a tutti.